Amici di Facebook e di Twitter, in anteprima per voi e solo per voi, la piantina dello studio del mio prossimo show. È una cosa che io ho in esclusiva, vi faccio vedere subito. Panariella, abbi pazienza, facci il lavoro. Ragazzi, facci il lavoro. Non ti partici ragazzi, sti romani, attaccate il lavoro, non puoi fare niente, via romano. È un lavoro.